Andiamo, allora solo mani nute, ok? Niente cavi monomolecolari o lame d'amantide. Certo. Te lo dico perché l'ultimo avversario voleva fregarmi con degli speroni. Allora, ci siamo? Sì. Diamoci dentro. Occhi aperti ora, non scherzo. Aiuto! Vuoi spararci? Non voglio! Non voglio! Non voglio! Non voglio! Non voglio! Non voglio! Grazie a tutti Grazie a tutti